Beautiful anticipazioni, puntate americane. Steffi consiglia a Thomas di lasciare definitivamente Hope. Nelle puntate americane di Beautiful, l'equilibrio tra Hope e Steffi comincerà nuovamente a scricchiolare a causa della volontà della Logan di non impegnarsi fino in fondo con Thomas. Se negli episodi trasmessi su canale 5 Hope e Liam formano una coppia stabile, in quelli statunitensi la Logan ha scelto di iniziare una relazione con Thomas che, per ben due volte, le ha chiesto di diventare sua moglie. Hope, però, ha rifiutato la proposta in entrambi i casi, affermando di essere uscita da poco dal matrimonio con Liam e di aver bisogno di tempo per effettuare le dovute valutazioni. Thomas, come svelano le nuove anteprime, non sembrerà affatto disposto ad incassare il rifiuto e, nella sua mente, riechiggeranno le parole di Steffi, determinata più che mai ad allontanare i due. La Forrester, infatti, teme che Hope abbia scelto di interrompere i legami con lo Spencer e di rifarsi un vita con Thomas solo perché ha pagata dalla devozione e dalla esclusività che lui è in grado di darle. Inoltre, teme che suo fratello possa nuovamente cadere nelle sue vecchie ossessioni, nei suoi comportamenti psicotici nel caso in cui Hope arrivasse a chiudere definitivamente con lui. A breve, la CEO e Hope daranno vita ad un aspro confronto, nel corso del quale la Logan verrà dipinta come un egoista, dal momento che si sta soffermando solo sui propri bisogni e non sul benessere mentale della persona che ha al proprio fianco. Hope, più volte, proverà a respingere le sue accuse, specificando di essere sinceramente legata a Thomas ma di non sentirsi ancora pronta ad ufficializzare la relazione. Il ragazzo, dal canto suo, apparirà molto frustato ed indeciso sul da farsi. La sorella, vedendolo distrutto, non esiterà a dispensargli consigli, invitandolo a chiudere per sempre con Hope, in quanto eternamente confusa. Gli farà notare che quella donna sta approfittando dell'amore che nutre per lei. Gli spoiler annunciano che anche Brooke e Ridge saranno coinvolti nella vicenda. Vedremo che la Logan, nel tentativo di tenere a freno il dolore di Thomas, gli farà notare che, forse, la proposta di matrimonio è avvenuta troppo in fretta. Lui affermerà di aver avvertito una sintonia tale da indurlo a credere che Hope volesse davvero sposarlo. E pregherà la donna di dirgli la verità. Hope lo ama davvero. Quanto a Ridge, le anteprime indicano che non vedrà di buon occhio il comportamento della figliastra. Certo che stia giocando un po' troppo con i sentimenti del figlio. Dunque, se l'uomo sarà fermamente convinto che Thomas non sia colpevole di nulla e che non abbia travisato alcun che, Brooke si convincerà del contrario. Per lei, Thomas, essendo ancora in balia delle sue ossessioni, ha ingigantito ciò che la Logan sente per lui, sentimenti a suo dire ancora in fase, acerba. E Liam. Cosa ne penserà di tutto questo? Gli spoiler indicano che il ragazzo, quando apprenderà dei continui rifiuti di Hope, confiderà a Carter di essere certo che, a breve, si aprirà una vera e propria faida tra le due sorellastre. Steffi, infatti, stando alle sue osservazioni, è preoccupata che Hope stia solo usando Thomas. Inoltre la Logan, con la sua poca chiarezza, sta, smuovendo, la furia del designer che a breve esploderà. Ma ancora. I Forrester saranno in ansia anche per il piccolo Douglas. Una rottura tra i suoi genitori potrebbe gravare non poco sull'animo del piccino. Resta da capire cosa ne penserà a fine di tutto questo. Nei mesi scorsi, il giovane medico si era mostrato fin troppo interessato alla vita sentimentale di Hope, ritenendo che andasse protetta da Thomas. Thomas. Inoltre, più volte le ha indirizzato complimenti davvero sentiti. L'omicidio di Sheila da parte di Steffi ha portato poi i due ragazzi a vivere nuovi momenti significativi insieme, caratterizzati da forte intensità emotiva. Come hanno potuto constatare i telespettatori della CBS, la Logan ha fornito tutto il suo sostegno morale al dottore quando quest'ultimo si è mostrato disperato per la perdita della mamma. La rottura definitiva tra Hope e Thomas preparerà il terreno per un nuovo triangolo amoroso con protagonisti Steffi, fine dopo. Liam che ruolo giocherà in questa faccenda? E, tutto da scoprire? Beautiful anticipazioni, puntate americane. Il senza tetto Tom aiuterà i Forrester a risolvere il giallo legato alla morte di Sheila Carter. C'è grande attesa negli USA per i prossimi appuntamenti trasmessi dalla CBS, quelli che vedranno l'ingresso di un nuovo personaggio che risulterà davvero cruciale per quel che riguarda la storyline legata all'uccisione di Sheila per mano di Steffi. A breve, farà la sua apparizione un uomo di nome Tom, interpretato da Clint Howard, l'attore che, nella sua carriera, è stato impegnato soprattutto in pellicole orrore di fantascienza. Questa new entry sarà un senza tetto che le anteprime descrivono come il mezzo attraverso cui troverà improvvisa risoluzione un mistero che attanaglia da qualche settimana Finn e Dee Forrester. Non è ancora chiaro come e in quali circostanze il suddetto segreto verrà finalmente risolto. Le ipotesi, al momento, vertono sul fatto che Tom ci consentirà di scoprire una coccente verità. Sheila Carter non è affatto morta. E anche questa volta, come più volte successo in passato, è riuscita ad inscenare la propria dipartita nella speranza di vincere sui suoi nemici. E sorge lecito un interrogativo. Sheila è stata vista priva di vita sia a casa di Steffi che in obitorio. Dunque cosa è successo? In quali circostanze ritornerà dall'oltretomba? Al momento, ciò che è realmente accaduto resta top secret. Ma rumors americani indicano che assisteremo a delle svolte narrative davvero incredibili. Quanto al personaggio di Tom, non è la prima volta che la produzione fa ricorso a protagonisti, senza fissa dimora, per la risoluzione di, gialli, o storyline ad alto impatto emotivo. Nell'ormai lontanissimo 1991, Stephanie si ritrovò, senza memoria, a vagare tra i senza tetto di Los Angeles dopo essere stata colpita da un ictus. Dopo qualche anno, Taylor contrasse una brutta malattia nell'aiutare un senza tetto in difficoltà. La donna, all'epoca dei fatti, era in attesa delle gemelle Steffi e Phoebe. Coraggiosamente e contro il parere dei medici, scelse di evitare qualsiasi trattamento farmacologico per non nuocere alle nasciture. Ma ancora? Negli anni 2000, la tematica degli homeless, è stata ripresa più volte con protagoniste Brooke, Stephanie, Maya Havan e Daisy League. Come secondo quali modalità Tom aiuterà i Forrester e le Logan a scoprire la verità su Sheila? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, vi annunciamo che il matrimonio tra Finn e Steffi, a causa della scomparsa, della ex infermiera, sarà sempre più in vilico. Il dottore troverà sempre più sostegno e appoggio morale in Hope, in crisi con Thomas. E, prevista la nascita di una nuova storia d'amore? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.